e buonasera ragazze e ragazzi rieccoci qua con ori dunque mentre non registravo io mi sono fatto tutte le gare che abbiamo scoperto finora infatti ho più di 8.000 frammenti dello spirito l'episodio scorso abbiamo esplorato tutta quest'area qui laghi di luma anche se ci manca la nostra destinazione finale adesso mi trovo dal mercante perché desidererei spendere quello che ho guadagnato io quasi quasi guarda così giusto per averli tanto potenziamenti sì sempre ben accetti però non so voglio comprarli tutti questo costano poco prendiamoli tutti ecco già preso che tanto ce li abbiamo e poi magari mi potenzi un po ok ci l'abbiamo ripulito ok adesso magari potrei potenziare un po lo scudo quasi quasi c'è sì ok e di pari passo l'abilità spericolato ok poi il resto non lo so a fine non mi serve nulla però non so magari questo questo qua ce l'ho equipaggiato no dov'è questo ce l'ho equipaggiato 50% di probabilità di infligere il 50% danni extra aumentiamo sta percentuale magari ok vabbè ci stiamo potenziando un bel po' ok e direi che per il momento guarda va bene anche così ok poi mentre appunto andavo da una gara all'altra ho trovato un minerale qui di gorle quindi fare anche questo sempre più in alto perché sugli alberi sembrano essere popolari tra i mocchi e se ne aggiungessimo ancora un paio guarda per me va bene ok così abbiamo praticamente costruito tutto quello che potevamo costruire ok vediamo c'è qua ah ah no no vero manca questo questo da 10 sì 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 va bene allora quando ne avrò 10 faremo anche questo però io sono curioso di vedere la casetta qua ho attivato il fuoco con l'aria calda però la casetta eh dovrebbe essere qui dico bene no qui c'è la talpa aspetta che non mi ricordo ah avevo dei semi ah non mi ricordo non mi ricordavo più stazione appiccicosa non mi sorprende che tu abbia trovato questo seme così lontano guarda come appiccicoso i semi delle piante erbacee si aggrappano i passanti ne approfittano per trovare terreni più fertili vabbè manca solo uno poi cominciamo sarà sicuramente in montagna l'altro seme ah vedi per andare su meglio quando ero giovane spruzzai un po' di steli d'erba su mio fratello mentre dormiva è sottovoluta il loro potere adesivo mia madre ci mise ore per rimediare a quel pasticcio va bene ok però eh io devo sempre andare a vedere perchè dentro le casette dei mochi ci sono delle ricompense ah ecco vedi così andiamo su meglio con questo aspetta ah si qua si va in montagna si si qua c'eravamo già stati quindi ok oppure mi sembrava da questo lato la casetta del mochi perchè o ci sono sfere di energia probabile oppure magari qualche cioè frammento dello spirito si vediamo ok fammi vedere qua questo non si rompe qua sopra l'ho già stato eventualmente andare ancora più su fammi vedere se si può qua è tutto chiuso ma qua ce l'ho già stato no più su di così non si va qua ci si può arrampicare questo si muove tutto ah eccola lì eccola lì eccola lì l'ho vista si mi sa che è lei no era da tutt'altra parte vabbè ok aspetta eh no aspetta ok qua questo sono io mochi il coraggioso tu non mi avrai mica dimenticato nessuno può dimenticare la mia battaglia epica con il feroce si spalgi la voce solleva il morale vabbè vabbè ecco qua si non vedo ora di uscire e esplorare ancora magari potrei starvene qui a raccontare agli altri mochi delle mie esplorazioni ecco mi sembra un'idea migliore aspetta che magari qui c'è roba che può essere distrutta e guarda là in alto c'è una bella aspetta vediamo se se ci arrivo ok qui non c'è niente va bene ok insomma mancano solo le decorazioni ora qui aha vediamo se si può raggiungere c'è un punto eh si adesso si si può raggiungere ok perché c'è un punto cioè qua esatto dove c'era un minerale l'avevo visto ma non potevamo salirci va bene ok dunque io direi di tornare dove eravamo cioè qua e proseguire da qui con questo potenziamento del villaggio ok ok di qua beh vado sempre dritto dovrei esserci credo qua avevo aperto una scorciatoia mi pare ok vedemi vedere vedemi vedere si di qua attenzione ok si ci siamo ok vediamo se c'è qualche segretuscio qua no oh un pozzo qui mi viene sempre da chiamarlo santuario vabbè pozzo salvato perfetto ah ecco vedi ah lì in alto ma per arrivare lì no neanche se mi do la spinta ci arrivo ahia scusa eh no perchè anche se mi do beh una spinta con l'acqua no va non è possibile eh no non ci arrivo per un modo ci sarà manca ancora qualche potere magari ahia ahia ok visto che è qui ok no ma neanche di qui se mi do oddio ah eh dovevo darlo era di qui ok 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 alla fine la soluzione è semplice ok bene no dove siamo sbagliato direzione ok dove siamo siamo qui aspetta un attimo teoria qua si dovrebbe passare però vabbè andiamo dove dobbiamo andare magari si distrugge qualcosa non so colloca qualcosa che non va presto questo non sta bene hm ha trovato la forza della foresta ma è strano in effetti ha gli occhi un po' particolari sarà mica incattivito ah si ah ancora questo quello quello si ahia eh si vedi che adesso si è distrutto e possiamo passare quello che ahia che bloccava la ruota del mulino ok 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 è un cazzarola eh mi ha bloccato ok ok è un possiamo tirargli un martellato in fronte no? magari rinsavisce ok 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 oh no stavo andando giù vabbè devo fare sempre da capo eh vabbè 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 ma in teoria sei in alto tu come fai a break prendermi io sono in basso vabbè che sei obb... cioè sei obbligato sei obbligato a stare davanti capito come anche in altre occasioni aspetta eh così poi devo essere rapidissimo praticamente ah ed è si vabbè ci sono i piragna e allora no li ho visti anche prima i piragna a dir la verità però a sto punto teniamo sta luce almeno cioè magari non li uccido però almeno si spostano ok appunto appunto ok forse siamo arrivati all'arena di scontro si quindi è lui il boss eh si aspetta c'ho meglio è lui controllato forse anche qua serve il fendente che è il martello che è il martello ma sta lingua qua ahia e vabbè adesso ora che trovo il il un po' giusto il metodo giusto a le mie ste mani se no possiamo provare la lancia e toglie parecchio te te togli un po' ok ok magari mi aiuta eh vediamo ok eh così consumiamo molta più energia ma vabbè ok 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 però almeno lo prendo ok ok andiamo aspetta che un pochino teniamolo per la vita eh caia no volevo curarmi aia ma proprio lì dovevo finire eh cavolo mmm no la lancia va bene per un po' si però consuma vabbè non è che poi tanto non posso curarmi no andiamo così cavolo cavolo ok bravo te lo rispedisco indietro se ci riesco ok arriva l'acqua si dotto attenzione aia qui no non posso neanche curarmi mi ciao va non ho più energia non ho più abbastanza energia ah porca vacca allora rieccomi qua adesso andiamo solo di lancia perché tanto non non è una fase dove ho visto non ci si può proprio curare aspetta no no finchè possiamo ecco adesso via ok mi si nozzi mi si nozzi no aspetta no ah l'ho consumato maledizione serve energia dai grande porca vacca porca vacca mazzarola attenzione ok siamo in zona andiamo dall'altra parte così così ok dai ancora proprio ma proprio guarda un ciccinini gli manca aspetta ok ok no vabbè 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 son morto però ok mi ha salvato me lo ballo è che erano sulle spine sulle spine no che va l'ha portato su aspetta qua la lancia ci ha salvato eh sarebbe stato molto più difficile solo col fendente normale o col martello eh oh bravo non alla fuor due morga Ah, e muore? Quindi dopo tanti anni magari che era sempre lì, adesso l'unica volta che si è mosso è morto, vabbè Oh, sono uniti Forza della foresta, i valori massimi sono aumentati Ok, sconfiggi Kolok, sì, vediamo la mappa Siamo qua, ok, aha Adesso torno indietro Un'occhiata a quel posto lì che è grigio Questo non si rompe Cioè davvero, appunto, anni che era lì nella sua palude, tranquillo e beato Adesso si è mosso per darci una mano Ed è morto Vabbè Sfortuna Vedere qua Attenzione Sì, ecco, bravo, è morto Ok, devo vedere Vado avanti, eh Ah Attenzione c'è Ok Ok Sono passato Ah Ok Vai per tornare indietro, ma qua Ah no, niente, non si può Che non si può andare Ai Generale Ok Ok Donna sta Iiii, mi tagliatore Caracca Ok Vedo Meno un po' a caso Ok Bene Aspetta Questo fatto Qui non abbiamo visto Ok Infatti volevo controllare Eh perché c'era Kolok Per quello Ehi Ehi Caracca Quindi Stop Ok 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 Morto Ok Qua abbiamo aperto Una scorciatoia Ci sono dei passaggi Sereti No Vedo Sì Una scorciatoia Sì Sì Per andare di qua Ok Va bene Allora Io direi Che qua È 96% Siccome al sempre Mancherà magari Qualche angolino Un po' Nascosto Vabbè Non sto a diventare Mato A cercarlo Ah ecco Potrei Ah non posso Viaggiare rapidamente Da sott'acqua Lo usciamo Ok Torniamo un attimo Qua Che andiamo a dire Al Moki Che Kolok È morto Perfettamente Ok Vabbè Essere Qui Apparisca Un attimo Eccolo là Kolok Se n'è andato Cosa faremo Noi Moki Grande guardiano Grande maestro Mucoso E saggio Devo proteggere I miei rispetti Devo porgere I miei rispetti Ma non sono Abbastanza forte Da tornare alla palude Questo amuleto Kolom Me lo ho detto Tanto tempo fa Potresti portarlo Al suo lago Nella valle Ok Porta l'amuleto All'altare di Kolok Ah Qua Sì Sì Lo porto Che volentieri Aspetta Fammi vedere Un attimo La strada Dunque Noi dobbiamo andare Adesso in montagna Praticamente Però Sì Andiamo qui Portiamo L'amuleto All'altare Quindi la bestia Della ruota Qui si è Rifugiata Nei laghi di luna Praticamente Allora Attenzione Fammi andare Sempre dritto Ok Ok Attenzione Spara Spara Vabbè Posso fare anche così Ah Guarda Ah Ok Già che passo Non era segnata Però Questa Qua c'è Eh sì Poverina Dovrebbe essere qui Ecco qua Per collocare L'amuleto Ok Fatti Va bene Questo fatto Allora direi Questo non so ancora Come prenderlo Eh Possiamo andare su Qua Eh Aspetta No Su Nel senso Qua Ok Quindi Per andare su Di lì Devo tornare al villaggio Ok Ok Allora Ero andato su Prima Praticamente Facciamo così Di qua Sì Esatto Ok Verso Il mondo I monti Allora C'era un orso Mi pare Credo Era di qua No L'orso era di qua Vabbè andiamo di qua Vediamo Qui c'era Aia Gorlec Corrotto Qui c'è tutto Ghiacciato Questo Ghiacciato Vedere se per caso Magari non si Di qua non si può andare su Non c'è Oh no Sì Sono arrivato Ok Ok Aia Aspetta E qui non so dove Aia Dio di cosa Appuntite Poi c'è una chiave Di volta Ok Dai Ok C'è Ok C'è un'altra Aia Mi ha preso Facile Schivarlo Ne ho tre Solitamente Sono Aspetta Quattro Magari Ok Eccola qua Ok Qua c'è La partenza Per una gara Che è qui L'arrivo Scusa ma Scusa davvero C'è E' qui a due metri C'è Massimo Fammi vedere Adesso la faccio Ma Perché mi fa fare Sto giro Se l'arrivo Lì a due metri C'è Ah Perché ti fa Prenderle chiavi Ho capito Ho capito Mi sembra Strano Quella Ehi la Aspetta Vediamo Se riusciamo A fare Dal primo colpo Aia Ok Andiamo di qua Aia Ne abbiamo Quattro Ma Ma che cazzo Aia Bastardo No Fammi aprire No dai Per due centesimi Ho sbagliato Cos'è Un secondo Forse No Adesso voglio rifarla Aspetta No il giro Che abbiamo fatto Noi non è male Secondo me Però Però possiamo Anche cambiare Vediamo No ho sbagliato Strada Aspetta Sbagliato Strada Proviamo Dai dai Che Facciamo così Ok giù Poi di qua Oh lui è andato sotto Prima Fatti Aia Ok No Ok Poi lui Scatta No Non scatta Va sulle Cos Vabbè Dai Dai No Vabbè Dai Mi izzega Peggio di prima Aspetta No Adesso Mi fisso Io Quando mi impunto Per questo Guy Non voglio Farle Mentre Registo A parte Vabbè Da prima Che C'è Però Adesso Io vado Prima su Va bene Faccio il mio Giro Ok Vai Edizione Ecco Vedi Che sono In vantaggio Però Se non vado A sbattere Dai Ok Oh Tiè L'ho fatta Perfetto Ok Questo ho preso Quindi possiamo andare su Beh Non si Aia No 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 Aspetta Ah Va rotto Questo Non c'è Un passaggio Di qua Vedere Già Eh no Vabbè che non segna nulla Allora devo andare Per forza Di No Di qua Già Sì Allora torno al villaggio Che Mi curo E mi curo E Andiamo dall'altro lato